Eni Servizi nell'ambito di Eni è la realtà che si occupa di erogare i servizi al business e alle persone di tutte le società che appartengono all'orbita dell'Eni. Eni è una realtà molto grande, è la prima company nazionale ed è presente in 70 paesi nel mondo, ha circa 38 mila dipendenti in Italia e quasi 40 mila all'estero ed ha quindi un'agenzia di nobilità enorme. Eni Servizi ha più di 600 dipendenti in tutta Italia, proprio interno l'agenzia di viaggio Grand Tour che gestisce le attività di business travel per questo mondo Eni. Le relazioni tra Travelport e Grand Tour sono ormai storiche e consolidate da anni e per noi essere considerati dei consiglieri importanti per dare un contributo all'evoluzione di questo rapporto è sicuramente un momento di grande soddisfazione, reciproca e di grande stimolo e interesse. Eni Servizi è il nostro cliente da circa 20 anni, quello che loro cercano in noi è un valido partner che non sia semplicemente un mero fornitore di uno strumento tecnologico ma che fornisca tutto quel supporto atto appunto a soddisfare il cliente interno. L'attenzione che viene posta alla persona è molto elevata, quindi il ricercare da parte di Eni Servizi un partner che permettesse di soddisfare un punto di vista proprio di peculiarità di richieste era fondamentale, quindi il nostro contributo nei confronti di Eni Servizi è proprio nell'essere partner a 360 gradi. Sicuramente il nostro modello si differenzia un po' da quello che è il modello classico business travel almeno in Italia. L'esigenza principale è sicuramente quella di uscire da un modello classico di offerta di GDS ma venire incontro a quelle che sono le esigenze peculiari di Eni, ovvero nell'integrazione dei sistemi e una formazione mirata proprio per gli operatori. Travelport fornisce a Eni Servizi una serie disparata di servizi, piuttosto che di servizi legati alla tecnologia, quindi l'infrastruttura, i collegamenti di Eni Servizi con il GDS vengono tramite una infrastruttura dedicata che viene da noi gestita. Altri servizi riguardano la gestione in sede dell'itinerario, quindi poter conoscere in ogni istante qual è la posizione dei propri dipendenti all'estero tramite una componente del workflow che consente di visualizzare e di avere certezza della distribuzione geografica di chi viaggia in un dato momento. Travelport sicuramente ci dà un supporto significativo proprio nell'aiutare a trovare sempre delle soluzioni finalizzate proprio all'integrazione dei sistemi e quindi essere sempre più propositivi nei confronti dei dipendenti Eni. Grazie. Grazie.